Una festa del turismo, festa del turismo del Lago Maggiore, orgogliosi di essere aronesi del Lago Maggiore, italiani, quando vedi la partuglia acrobatica in questo modo, cioè veramente, poi siamo stati baciati dalla fortuna, è un tempo magnifico, e poi tanti volontari, Croce Rossa, Protezione Civile, ma tantissimi volontari delle più diverse associazioni che hanno dato questo, hanno dato il cuore, grazie anche al volontariato e alle forze dell'ordine. Oggi ad Arona abbiamo dato una grande dimostrazione che si può lavorare in squadra, si può lavorare con tutto il Lago Maggiore, perché il Lago Maggiore è uno dei laghi più belli, ma pensiamo anche al Lago d'Orta, al Lago di Mergozzo, cioè uno dei laghi più belli della zona dei laghi più belli del mondo, e oggi siamo veramente contenti perché tante famiglie, tanta gente, tanta voglia di star bene. Il sindaco non ha finito adesso di lavorare, si sta già preparando per l'edizione 2020? Certo, assolutamente, perché ormai tutti sanno che la Rona Airshow rimarrà e continuerà, avete visto, si è ingrandito sia in termini di giorni, tre giorni, sia in termini di eventi, no? Tanti eventi, abbiamo fatto un'ora e mezza di spettacoli aerei, tra elicotteri aerei e quant'altro, c'è una cosa veramente unica. E' unica.